Ritorna a voi Giuliano Gemma, l'indimenticabile protagonista di un dollaro bucato in un nuovo drammatico personaggio creato dallo stesso autore. Un uomo buono e generoso trascinato da un destino implacabile alla più esasperante violenza. Adios Gringo, un film carico di tensione dal primo all'ultimo istante. Non c'è tregua per Brent Landers, l'uomo che vuole giustizia a costo della vita. Non c'è tregua alle emozioni che scaturiscono da questa storia vera. La storia di un uomo solo contro i preconcetti e le ingiustizie della società in cui vive. La storia di un amore impossibile che nasce nella violenza e che solo la violenza può salvare. L'Ussi? Erano in treno? Sì. Erni, pigli un accidente. Brent, vecchia carugna di un gringo, senti. Ben! No! No, no! Assassino! Lui me l'ha ucciso, lui! Assassino! Calma, ragazzi. Un poco di calma. Sono lo scerifo della contea di Sei. Impicchiamolo! A morte! Prendetelo! Guardalo bene, assassino. Sarà una gioia legartelo al collo. Vedrai, ti faremo fare un bel viaggetto. Vada! E' il primo che ci riprova a mettermi le mani addosso. Lo faccio fuori. Quanto è vero di Dio! Sarifo! Per questa volta non mi incanti più. Ma tu non sei un assassino. Il giudice non mi crederà se non riesco a portare il vero responsabile. Chi è? Ma è Gil, che lo so. Il paese hanno perso la testa. Sono impazziti. E tu sai bene come la folla. Sì, lo so bene. Entrate in casa. Cercate Brent Landers. Rascinatelo in strada. Non c'è tregua per Brent Landers. L'uomo ricercato da tutti gli sceriffi dell'Unione. L'uomo che la gente di due contee vuole prendere vivo solo per il piacere di poterlo impiccare. Presto, Luzi. Non c'è tregua nemmeno per la donna che lo ama. Disposta a dividere il suo destino fino all'estretto. Adios Gringo, un film che scuoterà i vostri sentimenti. Fuoo. Qu'è un film che c'era qui a prendere questa? Si, mi piacerebbe questo, chi? Francesco? È un film che signerà. Qu'è tregua? Grazie a tutti